Una delle più brutte versioni stagionali certificata dai numeri, 13% nel tiro da 3, 19 palloni persi. I Lions deludono nel confronto casalingo contro Teramo ed incassano così la seconda sconfitta consecutiva nel campionato di Serie B, che è anche la seconda stagionale davanti al proprio pubblico. Vincono 78 a 67 gli abruzzesi al Paladolmen, sfruttano al meglio la giornata sbiadita dei bicegliesi che tengono botta solo nel primo quarto, poi vanno sotto nel punteggio e non riescono mai a rimettere in discussione il verdetto finale. I due punti finiscono così nel totalizzatore degli ospiti che balzano a quota 16 in classifica, restano 22 invece quelli del collettivo nero-azzurro, settimo in gradutoria insieme a Cusio e Nico Taranto. Parità a quota 15 alla prima interruzione al termine di un parziale, quello d'apertura caratterizzato da sorpassi e controsorpassi. Teramo però prova a superare la concorrenza con un 10 a 0 di parziale all'alba del secondo quarto e tutto sommato ci riesce arrivando all'intervallo lungo sul più 8, 37 a 29. Il margine aumenta progressivamente anche al rientro dagli spogliatoi. Gli ospiti toccano addirittura il più 18 e chiudono sul più 15 il parziale. Gli ultimi sforzi bicegliesi profusi nei conclusivi dieci minuti portano al massimo almeno 8, ma la partita è già abbondantemente compromessa. Vince Teramo, perdono i Lions nonostante i 19 punti di D.P., 14 di Drone e 10 di Dree. Domenica prossima sul campo di Sant'Antimo, quarto in classifica, ci vorrà ben altra prestazione per tornare a casa con i due punti.